In provincia di Agrigento è salito ancora il numero dei soggetti risultati positivi al Covid-19, ma oggi si registra il ritardo dell'azienda sanitaria provinciale nella comunicazione relativa alla distribuzione nei singoli comuni. Siamo fermi dunque ieri quando si era registrato l'incremento di un caso rispettivamente nei comuni di Sciacca e Santa Margherita a Belice, mentre erano stati quattro i nuovi contagi registrati a Menfi e comunicati dal sindaco Marilena Mauceri assieme alla buona notizia di una persona guarita, che dovrebbero portare così il comune a Belicino a registrare attualmente otto persone positive. Informazioni ancora una volta frammentarie e non è finita qui, il balletto delle cifre continua anche tra Regione e Ministero. E così, nonostante entrambi i dati siano riferiti all'ultimo aggiornamento, quello di ieri pomeriggio, secondo quanto riporta il Ministero della Salute, in provincia di Agrigento i casi di pazienti positivi sono 94, mentre sono 91, secondo il report fornito sempre ieri sera dalla Regione siciliana. Di tutto di più, con un'unica certezza però, che i casi di contagio aumentano in provincia di Agrigento, siamo quasi a 100, così come nel resto dell'isola, con oltre 1.500 soggetti positivi. Una situazione che preoccupa e che deve far rimanere in allerta, tanto che il Presidente Danello Musumeci, ha già anticipato che è fuori discussione ogni ipotesi di allargamento delle misure attualmente in vigore nell'isola. Lo ha fatto commentando, ad esempio, la famosa questione dell'ora d'aria per i bambini, con il via libera del Governo che ha però già precisato che è consentita solo per i più piccoli, non per ragazzini e adolescenti per intenderci, con un solo genitore e in prossimità della propria abitazione. In Sicilia non consentiamo passeggiate di alcun tipo, anche con i bambini, ha chiusato però il Governatore Musumeci, chiarendo subito che non adeguerà in tal senso l'ordinanza da lui firmata e che vieta anche l'attività motoria all'aperto. Sono assolutamente contrario alla possibilità offerta dal Governo nazionale. Le passeggiate con i bambini si faranno, ha aggiunto Musumeci, ma solo quando sarà finita l'emergenza. Le uniche eccezioni, ha poi precisato, saranno consentite per bambini affetti da particolari patologie e dietro certificazione medica. Il Presidente della Regione è andato anche oltre, anticipando che in Sicilia la proroga delle misure restrittive rimarrà in vigore almeno fino al 20 aprile, mentre proprio oggi il Ministro Speranza ha anticipato al Senato che la proroga sarà fino al 13 aprile, giorno di Pasquetta. Del resto, proprio la Sicilia è una delle Regioni che ha adottato le misure più drastiche. Basti pensare ai supermercati chiusi la domenica o alla Facoltà concessa ai Sindaci di disporre altri provvedimenti ritenuti opportuni. Facoltà che ha portato al Sindaco di Sciacca Francesca Valenti a disporre la chiusura al pubblico delle attività, ad eccezione dei beni di prima necessità, alle ore 13. Mentre a San Giovanni di Dio, come rivelano queste fotografie pubblicate dal sito Grandangolo Agrigento, appaiono in fase piuttosto avanzata ai lavori di realizzazione dei posti letto per contagiati dal coronavirus, nella Città dei Templi è scattata una petizione per dire no all'apertura di un reparto Covid dentro l'ospedale. I promotori della raccolta di firme parlano di scelta scellerata che consente il diffondersi del virus così come è accaduto a Bergamo, Lodi e Codogno. Mirella Gulisano, promotrice della petizione in questione, fa notare che gli ospedali che hanno gestito meglio questa emergenza sono stati quelli le cui strutture sono dotate di padiglioni separati, mentre il San Giovanni di Dio è un nosocomio monoblocco. Non sono sufficienti dunque evidentemente tutte le rassicurazioni in ordine alla separazione degli accessi per pazienti e operatori sanitari, cosa che sembra ormai indirittura d'arrivo, così come indirittura d'arrivo sarebbero anche lavori dei percorsi dedicati all'interno dello stesso Giovanni Paolo II di Sciacca, l'altro ospedale della provincia di Agrigento indicato dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, all'interno del quale ricavare almeno 25 dei circa 60 posti letto che immediatamente si metteranno a disposizione per i casi di pazienti positivi al Covid-19. Ma anche a Sciacca, ancorché al momento senza una raccolta di firme, è in corso un ampio confronto sull'opportunità di generare quella che rischia di essere una promiscuità tra reparti tradizionali e posti letto Covid. Una perplessità che, d'altra parte, lo stesso sindaco Francesca Valenti non ha nascosto, invocando in tal senso la garanzia che il Giovanni Paolo II non venga snaturato, che dunque non si chiudono reparti né tantomeno si trasferiscano i pazienti affidandosi di contro alle rassicurazioni tecniche e pratiche su una separazione tra il reparto Covid e tutte le altre unità operative. Eppure Sciacca sembra continuare ad essere concreto il rischio di chiusura della nefrologia. È tornata a denunciarlo oggi la CGL di Agrigento, che in una nota firmata dalla responsabile del settore Funzione Pubblica Antonio Cutugno, ha denunciato alle voci circa un presunto sacrificio richiesto operatori sanitari e pazienti di questo reparto al fine di recuperare personale medico da dedicare al reparto Covid-19. Se così davvero fosse la CGL si domanda cosa ne sarà dei tanti pazienti che da anni fanno dialisi a Sciacca, non nascondendo i propri forti dubbi in ordine all'ipotesi che questi pazienti possano venire dirottati nei centri privati. Al commissario ad acta per la direzione medica dell'ospedale di Sciacca Alberto Firenze, la CGL chiede di farsi garante dei diritti dei pazienti nefropatici scongiurando laddove le voci della possibile chiusura della nefrologia a Giovanni Paolo II fossero fondate la chiusura del reparto in questione. Rapporti tesi dunque, quelli tra il sindacato e i vertici dell'ASPA e quali la CGL chiede di voler assicurare le relazioni sindacali anche in videoconferenza. Insomma nella fase di emergenza sanitaria che si sta attraversando il destino dei presidi ospedalieri continua a generare forti preoccupazioni soprattutto in merito all'ipotesi che i predetti presidi possono in qualche maniera venire ridimensionati con ipotesi comunque non confermate di chiusura di reparti che in effetti sarebbero difficili da digerire. Rimane pacifico che i posti letto covid sono necessari eppure nessuno li vuole, non almeno dentro gli ospedali per come li conosciamo. In tanti in queste settimane avevano guardato con attenzione all'ipotesi che da queste parti si puntasse all'utilizzo in questa direzione del fratelli Parlapiano di Ribera come covid hospital sulla falsariga della decisione assunta per l'ospedale di Partinico. E d'altronde lo stesso commissario d'acta Alberto Firenze aveva inizialmente pensato ad un utilizzo di tutti gli ospedali della provincia di Agrigento ma alla fine anche a seguito dei dubbi dei medici anestesisti e rianimatori si è preferito concentrare i posti letto negli ospedali maggiori della provincia. Sullo sfondo di questo grande dibattito rimane un'organizzazione dell'ASPE senza un capo con un direttore generale Alessandro Mazzara che dopo l'addio del precedente manager Santo Nocito è ancora un facente funzioni. E' oltremisura condivisibile da questo punto di vista il reiterato appello del Comitato Civico per la Sanità di Sciacca che sebbene inascoltato continua ad invocare la nomina di un nuovo manager ma da questo orecchio il governo della regione ma evidentemente l'intera classe politica della provincia di Agrigento continua a non volerci sentire. E' stata pubblicata la ripartizione dei fondi per un totale di 100 milioni di euro che la regione siciliana ha deciso di stanziare in favore delle famiglie per contrastare i casi di indigenza e di povertà provocati dall'emergenza coronavirus. Un provvedimento assai atteso dai comuni alle prese con un'emergenza che non è solo sanitaria ma anche sociale ed economica. Per la provincia di Agrigento al capoluogo andrà 1.179.000 euro, al comune di Sciacca 807.000 euro, allicata 730.000 euro, Canicattì 715.000. Per ciò che concerne i comuni dell'Interlande Saccense, 248.260 euro andranno al comune di Menfi, 374.220 alla città di Ribera, 126.540 a Santa Margherita Belice, 115.400 euro a Sambuca di Sicilia ed ancora al comune di Montevago andranno 58.580 euro, Caltabellotta 70.000 euro, Cattolica Eraclea 71.820, Burgio 52.000 euro, Lucca Sicula 35.180 euro, Villa Franca Sicula 27.560 euro. Le risorse verranno assegnate in più tranche a tutti i comuni che nella distribuzione, si legge nella delibera dell'Aggiunta regionale, dovranno prestare particolare riguardo alle nuove povertà rappresentate dalle famiglie che non percepiscono più alcun reddito, compreso quello di cittadinanza e alcuna altra assistenza economica o sanitaria. I 100 milioni di euro stanziati dal governo musumeci si aggiungono ai 43.500.000 euro destinati ai 390 comuni siciliani attraverso l'ordinanza firmata dal Capo della Protezione Civile nell'ambito del fondo di solidarietà di 400 milioni di euro stanziato dal governo Conte e in base alla cui ripartizione ammonta come noto a 361.714 euro la somma aspettante al comune di Sciacca. Al pari dei fondi nazionali, anche la ripartizione di quelli regionali ha tenuto conto del numero di abitanti. Si tratta, aveva annunciato giorni fa il presidente della regione Nello Musumeci di una prima necessaria risposta che vogliamo dare per consentire a migliaia di famiglie siciliane ormai esasperate di far fronte almeno alle immediate esigenze alimentari. In queste settimane di paralisi, ha aggiunto il governatore, sono cresciuti a dismisura in Sicilia i nuclei familiari più fragili e maggiormente disagiati, quelli cioè che stanno soffrendo più di tutti la perdurante crisi dovuta all'emergenza coronavirus. Famiglie che in parte si aggiungono alle oltre 450 mila dichiarate povere in Sicilia, secondo i dati dell'Istat. Umido rimasto oggi nelle case dei Saccensi per l'ennesimo stop alla raccolta legato alla saturazione dell'impianto di compostaggio di Contrada Santa Maria. E arriva la protesta del sindaco Francesca Valenti nei confronti delle ditte che gestiscono i servizi del Piano Aro, ma soprattutto dei responsabili di Sogeir che gestiscono l'impianto. Non è accettabile che nel pieno dell'emergenza coronavirus la città di Sciacca sia costretta a subire continui disservizi, ha denunciato il sindaco nella nota trasmessa anche al prefetto di Egrigento, evidenziando peraltro come il comune di Sciacca sia quello che contribuisce maggiormente ai costi di gestione della struttura e con pagamenti puntuali. Un chiaro riferimento ad altri comuni che, come è noto, non sono altrettanto solerti, puro suffruendo, del centro di compostaggio. Francesca Valenti nella nota fa riferimento ad un approccio poco collaborativo. Si aspettava in questo particolare momento soluzioni alternative, sia pure in via assolutamente temporanea ed emergenziale, che pure in passato sono state adottate. Non certamente il blocco del ritiro dell'umido e a pochi giorni dall'ultimo disservizio che peraltro aveva riguardato sempre il comune di Sciacca. Le famiglie saccenze, aggiunto, non possono subire anche questo, già provate dall'emergenza covid-19 e dalle conseguenti restrizioni che si sono rese necessarie ma che generano ugualmente situazioni di stress. Per non dire che la città in questo momento non può certamente permettersi ulteriori problemi igienico-sanitari connessi al mancato ritiro della frazione umida dei rifiuti, dunque una protesta formale assieme alla richiesta di un approccio diverso e maggiormente collaborativo da parte delle ditte che gestiscono il servizio e dei responsabili di soggere impianti. La raccolta dell'umido a Sciacca riprenderà regolarmente sabato. Il sindaco ha dichiarato di aver avuto garanzie in tal senso, ma il problema della saturazione dell'impianto di Contrada Santa Maria rimane sempre dietro l'angolo e non è certamente una novità. E' paradossale, oltre che gravissimo intanto, che non sia stata ancora risolta la questione del ritiro della spazzatura alle famiglie saccensi in quarantena. In pratica alle persone positive al covid-19 o a quanti sono in isolamento fiduciario nelle loro abitazioni, già da settimane era stato imposto di conferire tutta la spazzatura in un unico sacchetto come indifferenziata. Il problema è che nessuno fino ad oggi ha effettuato il ritiro e i sacchetti sono diventati sacchi enormi che queste persone si trovano costrette a tenere in casa in attesa che si decida chi deve ritirarli e dove devono essere conferiti. Tra l'altro, con una ordinanza del Presidente della Regione, vengono considerati rifiuti speciali. Dunque non possono essere ritirati dalle ditte che gestiscono il piano aro a Sciacca e non possono essere conferiti assieme all'indifferenziata del resto della città. Nel corso della videoconferenza tra ASP, sindaci e assessore regionale alla salute relativa alle questioni sanitarie della provincia, era stato affrontato anche questo problema e l'assessore Razza aveva avuto modo di chiarire che il servizio di ritiro e smaltimento per le famiglie in quarantena deve essere assicurato dall'ASP che tra l'altro ha già una convenzione con una ditta specializzata nella gestione dei rifiuti speciali. Problema risolto per nulla. L'ASP, che pure aveva preso atto delle indicazioni dell'assessore regionale alla sanità, ha ieri comunicato che, in attesa di definire le procedure, siano i comuni ad occuparsi della questione. Insomma, un classico esempio di scarica barile che però in questo frangente è intollerabile perché stiamo parlando di famiglie sacensi che già vivono il dramma del contagio o comunque della quarantena preventiva e si trovano anche a dover gestire la spazzatura di settimane nelle proprie abitazioni. Almeno il 30% delle attività commerciali che hanno chiuso per l'emergenza coronavirus rischia di non poter più riaprire. A denunciarlo oggi Giuseppe Caruana, responsabile di Confcommercio di Sciacca, per il quale per le piccole e medie imprese quello che si prospetta è un nuovo dopoguerra. Ecco, rispetto a quello che stiamo attraversando, il settore del commercio, della piccola e media impresa, uscirà un po', a parte queste misure che sono state adottate, ma uscirà un po' con le ossa rotte da questa vicenda? Sarà una specie di dopoguerra, si dice. Qual è la sua opinione? Io spero che usciranno. Anche con le ossa rotte, ma spero che usciremo da questa straordinaria e apocalittica situazione, surreale situazione. Io ho fatto un mente locale, ho chiesto anche ai miei genitori, a tanti altri colleghi, amici, non siamo mai stati chiusi per un periodo così lungo, mai. Nella storia si è verificato una cosa di questo genere. C'è il rischio, secondo lei, che chi non ha le spalle un po' più larghe, una solidità finanziaria, non possa più riaprire? Sì, il rischio c'è ed è stato anche calcolato con uno studio di compiocommercio, intorno al 30-40% delle attività sono a forte rischio di non riapertura. A fronte di ciò è giusto, come abbiamo fatto, sia in sede nazionale, in sede regionale e anche in sede provinciale, aumentare la pressione per allargare le maglie del credito, che è l'unica soluzione al momento che vediamo per far fronte all'imminente, cioè al superamento dell'imminente problema, superato naturalmente, prioritariamente, quello della salute, che è la prima in assoluto. Considera utili, Caruana, le misure adottate dal governo in materia di cassa integrazione in deroga e bonus da 600 euro? Diciamo che oggi, proprio da stamattina, è operativa la misura per il bonus 600 euro, indennità 600 euro, che ricordiamo è una tantum per il mese di marzo, per tutte le categorie appartenenti a commercio, artigianato, lavoratori autonomi, partite IVA, che sono iscritte alla gestione ordinaria dell'imps, ovvero pagano direttamente con l'imps e non in casse alternative a quelle dell'imps. Quindi da stamattina, seppur con grosse difficoltà, il sito dell'imps è operativo per poter operare e richiedere il bonus, che è richiedibile attraverso l'accessorio del PIN, per chi non lo ha è anche molto facile poterlo richiedere direttamente online. Come già è stato più volte manifestato e spiegato, anche tutti coloro che hanno a proprio carico un solo dipendente, possono straordinariamente in deroga accedere alla cassa integrazione per nove settimane. Fino ad un massimo di nove settimane al momento, probabilmente ci saranno delle estensioni anche in tal senso nel prossimo decreto di imminente uscita. Chiede Giuseppe Caruana al comune di Sciacca di sospendere i tributi oltre il 31 maggio. È doveroso pagare le tasse, ma avremo bisogno anche di tirare il fiato, dice. È stato importante l'annuncio del sindaco di sospendere i tributi locali fino al maggio del 2020, però sappiamo benissimo che le scadenze più importanti saranno probabilmente sono quelle di giugno, con tasi, tari e quant'altro. Ora, bisogna mettersi attorno a un tavolo proprio per cominciare a capire di poter prospettare un più ampio, intanto una più ampia moratoria da questo punto di vista in termini di tributi locali, in termini di tributi regionali e naturalmente anche i tributi nazionali, perché senza cassa, senza cash, quello che abbiamo perso non ce lo potrà restituire nessuno. In ordine alla procedura avviata a Ribera per distribuire ai bisognosi gli aiuti in buoni spesa previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, interviene l'ex sottosegretario Nene Mangiacavallo a proposito di alcune dichiarazioni contenute nel videomessaggio di ieri del sindaco Carmelo Pace. Per Mangiacavallo andrebbe innanzitutto abolita, anche nel modulo di richiesta, la scadenza del 2 aprile, cioè domani, non solo perché è fortemente limitante della possibilità di accedere al beneficio, ma anche perché, così come ammesso dallo stesso sindaco, si potrebbero creare delle disparità tra chi è rispettoso delle regole e chi no. Se è vero che anche a quelli che presenteranno la domanda in epoca successiva al 2 aprile sarà concesso il beneficio, non si capisce per quale motivo debba essere fissata una data di scadenza come se fosse una procedura concorsuale, osserva Mangiacavallo. Un'altra riflessione del medico riberese fa poi riferimento all'ammonimento del sindaco, sempre nel suo videomessaggio di ieri, a coloro che, pur non essendo bisognosi, presenteranno domanda, ricordando che saranno effettuati dei controlli incrociati. Si domanda, Nene Mangiacavallo, chi e con quali criteri obiettivi sarà in grado di distinguere il bisognoso da chi non lo è, basandosi solo su quanto riportato nella domanda. Un artigiano, un operario, un commerciante che da un bel po' di giorni non lavora e in atto non ha liquidità, pur avendo dichiarato lo scorso anno un reddito che non lo colloca tra i cosiddetti poveri, rientrerà tra i bisognosi o rischia di essere denunciato per avere dichiarato il falso. Un criterio obiettivo per stabilire almeno delle priorità dovrebbe esserci, anche per evitare una discrezionalità di giudizio che comunque potrebbe ingenerarsi. La mia non è una critica, conclude Nene Mangiacavallo, perché non vuole e non può esserlo, ma solo una riflessione che rassegno all'attenzione del primo cittadino. Riempi il carrello di solidarietà. Parte anche una colletta alimentare nell'ambito dell'iniziativa denominata Diamo una mano alle famiglie in difficoltà, promossa dal comune di Sciacca in collaborazione con associazioni di volontariato e le parrocchie, molto impegnate in questi giorni nell'assistenza e nella solidarietà. È stata denominata Riempi il carrello di solidarietà ed è stata avviata per aiutare anche con generi di prima necessità cittadini che in questo momento hanno bisogno. La raccolta di alimenti, spiegano il sindaco Francesca Valenti e l'assessore alle politiche sociali Gisella Mondino, parte oggi nei supermercati di Sciacca. I volontari della protezione civile si occuperanno di presidiare, raccogliere e distribuire quanto sarà generosamente donato dai cittadini. Un piccolo gesto che farà la differenza. Anche i supermercati però fanno la loro parte. I fratelli Segreto, che gestiscono nel supermercato Crai di via Giovanni XXIII, hanno donato al comune di Sciacca buone spese per un valore complessivo di 500 euro da destinare alle famiglie in difficoltà. Visto il momento di difficoltà che molte famiglie hanno, non parlo solo di chi magari non lavora, oppure chi ha lavorato e chi ha una partita IVA, in questo momento sappiamo la difficoltà che può avere. Io mi ho dovuto essere presente per dare una mano a tutti questi che magari in questo momento non stanno lavorando. Voi avete previsto dei buoni, ciascuno del valore di 20 euro? Di 20 euro, sì. Sarà poi il comune a gestirle, vedere chi ne ha più bisogno, saranno loro a gestirle. Il valore complessivo della somma da voi stanziata è di 500 euro? Di 500 euro, sì. Voi state toccando con mano il bisogno in queste settimane, le chiedo, questa iniziativa scaturisce quindi anche dalle situazioni che magari avete vissuto in prima persona? Sì, sì, guarda, noi diciamo che ci possiamo ritenere fortunati perché siamo una delle poche aziende che lavoriamo, con tutte le due difficoltà che stiamo avendo, anche che non è facile operare in queste condizioni. Però abbiamo voluto essere presenti. Capisco che sarà una goccia nell'oceano, però tante gocce a volte, sai, possono essere utili. Intanto pare che dopo i primi giorni di assalto ai supermercati la situazione si sia normalizzata. questo diciamo non lo hanno recepito, non ci sono più le file dei primi giorni, però noi facciamo entrare uno o due alla volta, quindi si crea magari una fila di 6-7 persone davanti all'ingresso. Però tutto sotto controllo, tutto sta filando bene, la gente ha capito sicuramente i problemi, ci sta dando anche una mano. Non ci sono stati tra l'altro problemi di approvvigionamento per nessun genere? No, 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 questa è un'altra cosa, voglio assicurare a tutti che la merce arriva regolarmente, tutti i giorni. L'unica cosa che sta un pochettino mancando sono i festi, però se manca una marca ci può essere l'altra marca che ci stituisce, quindi diciamo su questo aspetto non ci sono nessun po' bene. Anche il gruppo CDS, attraverso le insegne Il Centesimo, Carrefour e Max, ha stanziato in favore dei comuni in cui è presente con i propri punti vendita la somma complessiva di 230 mila euro da destinare alle famiglie che necessitano di un supporto immediato. I buoni spesa saranno distribuiti dai singoli comuni e saranno spendibili nei supermercati Il Centesimo. Prorogati i termini di scadenza all'Università di Palermo a darne notizia da Palazzo di Città con un avviso agli studenti, l'assessore alla pubblica istruzione Gisella Mondino e il dirigente del primo settore Michele Todaro. Nell'avviso pubblicato sul sito internet del Comune si fa riferimento in particolare ai termini di pagamento delle tasse del contributo omnicomprensivo di iscrizione all'anno accademico 2019-2020 sia per studenti in corso sia fuori corso. Questi termini sono stati prorogati al 31 maggio 2020. Posticipato dal 6 aprile al 6 luglio il termine di iscrizione e pagamento per la partecipazione alla prima sessione primaverile dei testi online per i corsi ad accesso programmato per l'anno accademico 2020-2021. Le prove concorsuali previste dal 20 al 24 aprile si svolgeranno a partire dal 20 luglio. Per ulteriori informazioni o assistenza, gli studenti si possono rivolgere allo sportello universitario del Comune di Sciacca inviando una mail a unisciacca-unipa.it o telefonando al centralino del Comune. La Copagri, Confederazione Produttori Agricoltori, merito al Decreto Legge 17 marzo 2020-18, che prevede un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 per liberi professionisti titolari di partita IVA attiva esistente alla data del 23 febbraio e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori iscritti al fondo pensioni, lavoratori dello spettacolo, fa sapere agli eventi diritto che per accedere all'indennità di 600 euro non ci sarà un ordine cronologico, per cui le richieste saranno totalmente esaminate. Nino Indelicato, inoltre, fa sapere che attraverso diversi e inattendibili canali di informazione vengono dette cose non vere in merito al diritto e al criterio di accesso all'indennità. A tal proposito, Copagri e patronato Ital Will sollecitano l'Inps a fare chiarezza e rassicurare tutti gli eventi diritto per evitare speculazioni e false notizie. Sollecita infine le istituzioni ad adoperarsi per far sì che le richieste vengano avanzate con criteri e metodi semplificati, celeri e senza esclusione al diritto. C'è anche il sostegno e l'adesione dell'Università della terza età Unitre di Sciacca, presieduta da Alberto Sutera, alla raccolta fondi Diamo una mano, promossa dal Comune, dai farmacisti, dai pediatri e dalla protezione civile. Il Consiglio di Unitre, in questo particolare momento di emergenza sanitaria che la comunità sta vivendo, ha pertanto deciso di dare il proprio contributo attraverso una donazione destinata alla raccolta fondi. Ricorre domani, giovedì 2 aprile, la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Lo scopo della giornata è quello di aumentare la consapevolezza su un disturbo la cui diagnosi è ancora difficile e che crea non poche difficoltà, soprattutto sul fronte dell'inclusione sociale. Il periodo che stiamo affrontando, difficile e particolarmente stressante per tutti, lo è ancora di più per chi vive tutte le forme di disabilità. Nell'impossibilità di dare il giusto valore all'importanza dell'inclusione e dell'abbattimento delle barriere di ogni genere, soprattutto culturali, il Comune di Sciacca, assessorato alle politiche sociali, la Biblioteca Comunale, la Biblioteca Junior, la trasmissione online L'Ora del Tè, hanno promosso un'iniziativa che si avvarrà degli strumenti tecnologici. L'iniziativa si racchiude nell'Hastag 2 Aprile Sciacca in Blu. Ognuno sarà chiamato a riempire la propria bacheca di Facebook di Blu. Domani, a partire dalle ore 10, si potrà postare una foto, un disegno, un pensiero, il link di un brano musicale che abbia a che fare con la giornata e il colore della giornata e che riguardi dunque l'importanza dell'inclusione sociale dei soggetti autistici, ma anche in generale di tutti coloro che vivono una condizione di disabilità. Ogni post dovrà essere accompagnato dall'Hastag 2 Aprile Sciacca in Blu per essere tutti raccolti e facilmente reperibili in un unico contenitore come a formare un libro della giornata. I post saranno pubblicati sulla pagina Facebook della Biblioteca Junior e letti durante la trasmissione L'Ora del Tè condotta da Gio Presti e Fabio Piazza che dedicheranno un lungo momento di riflessione alla giornata con il presidente dell'associazione Crescere Insieme Rita Montalbano e contributi video dell'associazione Agape e delle scuole di musica Schene Academy e School of Rock. Un servizio di raccolta dei rifiuti sanitari provenienti dalle utenze domestiche private. E' questo il progetto pilota avviato dal comune di Calamonaci, il primo in provincia di Agrigento ad avviare un percorso del genere. Agli utenti verrà consegnato un contenitore specifico, mentre gli operatori di raccolta saranno muniti di guanti, occhiali, tute e mascherine. A spiegarci l'iniziativa nel dettaglio il sindaco di Calamonaci Pino Spinelli e il capo dell'ufficio tecnico Giuseppe Vella. Con un'apposita convenzione con una ditta specializzata per il ritiro e smaltimento ai rifiuti sanitari verranno consegnata a tutti i cittadini, con particolari esigenze dei contenitori, dove poter conferire questi rifiuti speciali, che poi verranno riterati a domicilio dalla ditta specializzata. Coscio sarebbe a carico il comune di Calamonaci e non graverebbe in nessun modo sulle tasche dei cittadini. La cosa che mi rende più di orgoglio è che Calamonaci è il primo comune in provincia di Agrigento a realizzare un progetto del genere, perché credo che la buona amministrazione sia prima di tutto stare accanto a chi ha bisogno, ascoltarne le esigenze e assieme cercare di trovare una soluzione. Devo ringraziare principalmente per la collaborazione l'architetto Giuseppe Vella e l'ingegnere Pasquale Amato. Oggi la situazione a Calamonaci dal punto di vista emergenza Covid-19 è tranquilla. Chiedo a tutti i miei concittadini di continuare a stare a casa per poter a più presto finire questa emergenza e quindi tornare alla vita normale. Il comune di Calamonaci intende con questo nuovo servizio effettuare una raccolta differenziata di prodotti medicali. In cosa consiste tutto ciò? Significa cercare di migliorare ulteriormente quelli che sono i lusinghieri, risultati raggiunti dalla comunità di Calamonaci e quindi dopo aver raggiunto sicuramente le quantità intende anche lavorare sulla qualità della raccolta. I prodotti medicali sono prodotti spesso non considerati con la importanza che hanno, soprattutto dal punto di vista della potenziale capacità di incidenti a cui possono incorrere chi ovviamente effettua la raccolta. Pensate bene aghi e quant'altro che provengono appunto da soggetti che si curano a casa e quindi hanno necessità di smaltire questi prodotti. Come risolvere queste problematiche? Si è pensato a una distribuzione capillare e al bisogno di contenitori in materiale plastico per gli aghi e in cartone dove collocare appunto il materiale plastico, vitreo, che evidentemente non può e non deve essere smaltito con i rifiuti ordinari, men che meno con il residuo secco. Grazie a tutti.